. Carino Cascella nel mirino, Cecilia Rodriguez attacca l'opinionista. Cecilia Rodriguez attacca pubblicamente Carino Cascella e Barbara D'Urso. . Dopo Belen è ora il turno di Cecilia, anche la più piccola della famiglia Rodriguez è furiosa con Carino Cascella. . A detta delle sorelle, quest'ultima ha espresso in maniera eccessiva e volgare i suoi pensieri circa la storia nata al grande fratello Vip tra Cecu e Ignazio Moser. . E l'ex fidanzata di Francesco Monte non ha perso occasione per dichiararlo apertamente in un'intervista, ribadendo che la presenza di Carina è uno dei tanti motivi per i quali ha deciso di non andare a pomeriggio 5 e domenica live, i programmi di successo di Barbara D'Urso. . Pure la conduttrice napoletana è finita nel mirino dei fratelli Rodriguez che, a differenza degli altri ex bieffini, hanno scelto di non accettare l'invito della dottoressa Gio. . . Ma cosa ha detto di preciso Cecilia su Carina?. . Carina vs Cecilia, nello scontro coinvolta pure Barbara D'Urso. . Credo che Barbara D'Urso sia stata poco rispettosa nei miei confronti, permettendo ad alcuni opinionisti di parlare di me in modo violento. . Vorrei che Carina Cascella, per esempio, pensasse di più alla sua vita e un po' meno alla mia ha dichiarato Cecilia Rodriguez al settimanale Nuovo TV. . Di sicuro l'Argentina non ha apprezzato l'accostamento alle bestie usato da Carina in una puntata di Domenica Live. . Ma Cecilia si riferisce a più di un episodio, una situazione che, come confessato da Geremias Rodriguez, ha fatto soffrire parecchio la madre Veronica. . . Fino ad oggi sia la D'Urso sia la Cascella si sono difese sottolineando di non aver fatto nulla di male se non parlare di un argomento di dominio pubblico. . Come reagiranno di fronte a queste nuove accusi?. . Lo scontro tra Carina Cascella e Belen Rodriguez. . Di sicuro Carina non si farà intimorire dalla vicenda. . Qualche mese fa ha replicato senza troppi peli sulla lingua l'accuse di Belen Rodriguez. . Io non ho nulla contro la Rodriguez, sarà bella, sarà brava, sarà famosa, ma non per questo mi faccio mettere i piedi in testa da lei solo perché è Belen Rodriguez. . . Io dico quello che mi pare ha chiarito l'ex opinionista di Uomini e Donne. .